Chi davvero ha vinto in Qatar? Louis Hamilton, cui non è sembrato vero aver recuperato altri punti nella scalata del titolo, Verstappen che in qualche modo ha limitato i danni ed è pronto alla stoccata decisiva in Arabia, o Fernando Alonso che dopo sette anni ha riassaporato la gioia del podio. Direi tutti e tre ma con una decisa simpatia per chi disponeva del mezzo meccanico inferiore, quindi Alonso che è riuscito a tenersi dietro il resto del gruppo con la grinta di una volta e un'intelligenza tattica che farebbe molto comodo a questo punto delicato della stagione a Mercedes o Red Bull. Stratega della messa a punto, Alonso ha trovato le regolazioni giuste sull'Alpine per permettersi un solo cambio di gomme a differenza dei diretti rivali. Alla fine esploso in un sorriso beffardo con Alain Prost, sua fotocopia di ere antecedenti, che gongolava felice nel box della casa francese. Essere riuscito a mettersi dietro Red Bull, Aston Martin, Ferrari e McLaren è un'impresa rara di questi tempi e ora speriamo che la Renault guidata da un manager capace e appassionato come Luca De Meo sappia mettere Alonso nelle condizioni di vincere già nel 2022 perché Fernando ha fretta e poi non ha tanti anni verdi davanti, almeno agonisticamente parlando. Alonso ha guidato, come si usa dire nel gergo delle corse, sulle uova. Poca ala, un assetto appropriato, buona velocità in retilineo, accortezza nella guida per non fare la fine di Bottas, Norris e Latifi che hanno forato sui cordoli taglienti di Losail. Sì, mi sarebbe piaciuto vederlo guidare una Mercedes o una Red Bull. Sono convinto che non avrebbe affatto sfigurato con Hamilton o Verstappen. Se vogliamo, Alonso, per la Renault travestita ad Alpine, è l'equivalente di Ibrahimovic per il Milan. Due fenomeni senza tempo che hanno ingessato il calendario e sono riusciti a esaltare nello stesso weekend. Poi ci sono quelli che lottano per il titolo e qui Hamilton ha domato facilmente Verstappen sia in prova sia in gara. È partito davanti ma non ha mai concesso all'olandese di avvicinarsi più di tanto. Lo ha fatto, dice la Mercedes, col motore vecchio, non con quello strapotente del Brasile che verrà rispolverato per le gare finali in Arabia e ad Abu Dhabi. L'esito è incerto. La Red Bull non si aspettava una reazione così perentoria della Mercedes, così come Verstappen non immaginava che Hamilton fosse ancora tanto forte, determinato e insidioso. I pronostici a mio avviso sono inutili, troppe le variabili, gli imprevisti, i colpi di scena per sbilanciarci. E veniamo alla Ferrari, che in catara ha sofferto come la stessa Ferrari si immaginava ma forse sperava di più dei modestissimi settimo e ottavo posto di Sainz e Leclerc. Ai piloti era stato detto sin dall'inizio di non tirare troppo, il che è un vero non senso in un confronto in cui vince, secondo quanto ci raccontano chi va più forte. Carlos e Charles hanno eseguito e hanno consumato poco le gomme, tutto qui, nell'anonimato e nel grigiore, perché la macchina attuale ha delle tare aerodinamiche che si porta presso sin dalla nascita e non le si possono quindi chiedere i miracoli. Però vedere che la Ferrari dopo dieci giri sprofondava a mezzo minuto da Hamilton ci ha fatto scivolare nella malinconia. Vabbè, coraggio, ancora due gare e la sofferenza finirà. Però vedere un Alpine che all'arrivo di Los Ailes stacca le rosse di oltre 20 secondi, beh, non è stato bello. A parte Alonso che da noi resta popolarissimo anche se legato a Maranello da un progetto incompiuto sulle cui dinamiche del fallimento mi dilungherei troppo. Preferisco rinunciare bevendomi un caffè come ho fatto spesso insieme a Fernando alla macchinetta dell'Espresso nel box della Ferrari.